Allora, c'è da fare il video della DJ100, del percorso nuovo. Io purtroppo oggi sono un po' incasinato qui e non posso venire. Potresti andare tu, tanto più o meno il fisico è lo stesso. Secondo me non se ne accorge nessuno, ok? Casco in testa, pedali agganciati e pia! Torna a DJ100, la terza edizione della Gran Fondo di Radio DJ. Domenica 22 settembre la gara, tutto il fine settimana la festa. Vi aspettiamo a City Life Shopping This Week. Domenica 22 settembre, DJ100. Bike like a DJ. Le iscrizioni sono già aperte su DJ100.it